... ... ... oh 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 Baaa oh 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 non riesco una falla saltate due l'otto non è fazzato bergantino è saltato o passa dopo o passa dopo zoppo o una rota bucata ora c'è Pedro con la Hyundai i20 ora c'è la Hyundai i20 ora c'è la Hyundai i20 è la Hyundai i20 quella di Fontana è quella di Fontana è quella di Fontana è quella di Fontana si ha messo 18 e 7 chi è? testa però ci serve un pallone ecco te prendi il pallone prendi la pallone prendi la pallone albertini ma infatti sei visto albertini le pitture infatti dopo ecco la ecco la guarda albertini primo l'avevo visto e camminava camminava infatti dopo è qui bella bella ah camminavano c'è chi guarda questo è che il pallone si 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 E' un po' a foto. E' un po' a foto. Sì, almeno. Lì frena proprio troppo. L'arbergo mare lì a Cosoli, a magazzini, è già qui, è il volto. Questo è il volto. E' il volto. Grazie a tutti.